Ciao a tutti, benvenuti nel canale. Ecco la seconda sfida di Fortnite per la stagione 4, che è quella che richiede di eliminare i robot di Stark. Ora, non hanno una posizione fissa, sono casuali, però possono essere facilmente individuabili attraverso un fumo, quindi una colonna di fumo. Se vi aggirate per la mappa, vedete, ci sono quelle colonne di fumo viola, lì ci sono i robot della Stark, quindi praticamente armatevi di munizioni, armi, tutto quello che volete per eliminarli. Naturalmente non potete farlo in rissa squadre, quindi dovete assolutamente giocare in modalità singola. Quindi tenete sotto controllo quei fumi viola per fare la sfida. Adesso, senza perdere tempo, vi porto direttamente sul punto per mostrarvi appunto i nemici. Rieccomi ragazzi, senza armi ovviamente, perché voglio farvi vedere quali sono i robot. Eccoli qua, vedete? C'è praticamente il segno blu, il loro aereo e i nemici. Tutto quello che dovete fare è raccogliere le armi ed ucciderli. Ora ci provo, ma non penso che ci riesco, perché non ho niente. Ecco qua, tutto quello che dovete fare praticamente è sparare e ammazzarli tutti questi robot di Stark, o meglio, tutti quelli richiesti per il completamento della sfida. Quindi il mio consiglio, prima di atterrare, è quello di vedere dove sono, diciamo, le colonne di fumo blu. In questo modo qua il gioco è fatto, quindi avete la possibilità di completare la sfida.